scuola ripartita fra rientro sui banchi dad e rinvii epifania di assalto ai tamponi per gli studenti roff presentato il programma della 43esima edizione basket calcio e volley i contagi rinviano il ritorno in campo buonasera buonasera a voi amici telespettatori amiche telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale serale che in questa edizione di venerdì 7 gennaio apriamo occupandoci del ritorno sui banchi di scuola che è arrivato questa mattina nel territorio marchigiano fra le tante titubanze di una quarta ondata di pandemia che sta vedendo un dilagare di contagi proprio con particolare incisività fra i più giovani fra titubanze e rinvii prima ipotizzati e poi non concretizzati questa mattina la popolazione studentesca pesarese è tornata sui banchi di scuola quei banchi lasciati il 23 dicembre e ritrovati dopo due settimane in cui la quarta ondata della pandemia ha aumentato la sua violenza e facilità di contagio si è tornati infatti con più studenti vaccinati ma è una immunizzazione che viaggia a velocità inferiore del propagarsi della variante omicron e della sua rapidità di contagio non a caso la ripresa in presenza del 7 gennaio si è scontrata con defezioni per contagio quarantene che hanno ingigantito le assenze all'appello della prima campanella come confermato da riccardo rossini dirigente scolastico del liceo marconi di pesaro nonché presidente regionale dell'associazione nazionale presidi oggi davvero una giornata a campare abbiamo subito un'ondata d'urto impressionante questa mattina il telefono le mail sono state veramente calde circa 200 studenti ci hanno comunicato questa mattina che non ci sarebbero stati in presenza e che avrebbero voluto la dad e è stata loro garantita e devo dire quindi abbiamo in qualche modo affrontato la difficoltà e risolta certamente la situazione complicata abbiamo avuto anche defezioni sul personale scolastico una quindicina di docenti assenti personaleata bidelli è una scuola che è ripartita a macchia di leopardo non ci sono state limitazioni a livello governativo sul 7 di gennaio altre le hanno invece imposte alcune ordinanze dei sindaci come quelle di urbino cagli e cantiano che hanno preferito posticipare il rientro sui banchi al 10 gennaio da più parti c'è la sensazione a non disdegnare la didattica a distanza come intermedia soluzione per ripartire in questa critica fase della quarta ondata la didattica a distanza è stata demonizzata ingiustamente è uno strumento importante in situazioni come queste di emergenza non sono convinto che si dovesse partire tutti quanti didattica a distanza lo scenario è completamente diverso rispetto allo scorso anno c'è l'ottanta per cento perlomeno nel superiore della popolazione studentesca vaccinata quello che si doveva fare secondo me è mettere subito in sicurezza il personale scolastico con la terza dose e qui siamo veramente indietro vaccinare più possibile gli studenti poi a quel punto per chi legittimamente intendeva o ed intende non vaccinarsi allora a questo punto garantire la dad perché comunque un servizio importante che mantieni comunicazione lo studente con la scuola che ha un carattere sincrono cioè lo studente interagisce interagisce in tempo reale quindi dal punto di vista diciamo così metodologico è piuttosto efficace certo manca la parte della socializzazione della relazione chi potrebbe dire il contrario ma in una situazione emergenziale come questa è una soluzione ma soprattutto per coloro che non sono vaccinati se si è vaccinati tutti se si è in sicurezza se riusciamo a derubricare questo covide a influenza stagionale come sembra essere soprattutto per i vaccinati allora basta le quarantene è stato proposto nell'ultimo decreto ancora il tracciamento che andava in crisi con 50 positivi su 100 mila abitanti ora siamo vicino a mille positivi su 100 mila abitanti il tracciamento l'as non ce la fa più e noi non facciamo più tracciamento non ce la facciamo più stamattina con 200 persone che ti dicono che sono o positive o un contatto diretto non ce la facciamo se non con tempi biblici anche i tempi biblici il covi non aspetta quindi la soluzione non è questa la soluzione è la vaccinazione per tutti la messa in sicurezza del personale scolastico vaccinazione per tutti e coloro che non lo vogliono fare didattica a distanza che comunque uno strumento efficace e oggi si è tornati a scuola dopo il maxi screening dell'epifania che ha portato in tutte le marche a sottoporre al tampone gratuito più di 5.000 studenti fra i 5 e gli 11 anni vediamo come andata in questo servizio la giornata dell'epifania dedicata ai tamponi per gli studenti marchigiani fra i 5 e gli 11 anni si è conclusa con 5.494 test effettuati e 420 alunni risultati positivi ovvero il 7,6 per cento dei ragazzi presentatisi ai 16 hub allestiti dall'asur marche e dunque risultato contagiato è entrato in isolamento domiciliare e ha scongiurato il pericolo di mandare in quarantena l'intera classe si è trovato positivo una volta tornato oggi sui banchi di scuola tamponi e notifiche di contagio arrivate dopo una lunga mattinata di serpentoni di auto in fila sotto la pioggia con famiglie in compagnia dei figli a potenziale rischio contagio già perché la campagna di tamponi era dedicata specificatamente a ragazzi di scuole primaria e secondaria che presentavano sintomi o sospettavano il contatto diretto con un caso positivo va da sé che l'impossibilità a controllare questa categoria piuttosto che gli asintomatici ha portato anche tanti soggetti sani a togliersi il dubbio con il tampone gratuito a pesaro però ci sono state ore di coda col drive tamponi di via lombardia che ha creato una colonna di auto che ha risalito via paganini fino a via ponchielli nonostante la relativa rapidità di procedura e il gran lavoro dei volontari di protezione civile un'attesa degenerata in caos perché di fronte a un afflusso di persone andato oltre le previsioni una cinquantina di macchine sono state respinte attorno alle 12 e 30 nonostante l'orario indicato di chiusura fosse quello delle 14 proteste e tensioni sedate dall'intervento dei carabinieri a far da pacere la fotografia della giornata sul territorio provinciale è stata di 512 tamponi effettuati a pesaro che hanno rilevato 48 casi positivi 589 tamponi al codma di fano con 39 positivi 297 a urbino con 12 positivi 80 a sasso corvaro con 12 positivi in provincia di pesaro urbino si faranno test anche domani a cagli comune che come quello di urbino e cantiano ha deciso di riprendere le elezioni il 10 gennaio intanto a pesaro studenti a parte il punto drive tamponi di via lombardia amplierà i suoi servizi rispetto all'attuale situazione canalizzata nei pomeriggi di martedì e giovedì dal 16 gennaio su indicazione di asur e area vasta 1 il punto tamponi sarà aperto anche la domenica e proprio per la fascia di età fra i 5 e i 12 anni è arrivato oggi l'ok alla somministrazione della terza dose di vaccino per chi ha ricevuto la seconda da almeno quattro mesi da lunedì 10 gennaio ci si può prenotare alla dose booster che nelle marche verrà somministrata da martedì 11 gennaio sono 17.200 i ragazzi marchigiani che a gennaio potranno avere tale requisito restando in tema di vaccini per tutti i weekend di gennaio sarà creato un open day per chi intende vaccinarsi senza prenotazione tanti gli abbattrezzati in regione nell'area vasta 1 delle province di pesaro urbino si comincia domani 8 gennaio al codma di fano dalle 14 alle 20 e si continua domenica 9 gennaio a urbino al bocciodromo di viale neruda sempre dalle 14 alle 20 si è abbassato il dato di contagi e di tamponi dopo il festivo dell'epifania ma resta alta la percentuale di contagio che oggi si attesta al 22 per cento ovvero più di un tampone su 5 attualmente risulta positivo al covid come ricordano i dati odierni di 1033 contagi di cui 251 in provincia di pesaro urbino l'incidenza in regione si attesta a 715 casi ogni 100 mila abitanti abbassandosi per la prima volta dallo scorso 28 dicembre lieve rialzo dei ricoveri che salgono di due unità a 295 pazienti di cui 52 in terapia intensiva giornata pesante invece dal punto di vista dei decessi ben 7 fra cui un 75enne urbinate che non presentava patologie pregresse e cambiamo argomento il comune di pesaro continua a intercettare importanti finanziamenti attraverso bandi in questo caso parliamo di un bando di edilizia residenziale pubblica con 12 milioni di euro che a pesaro saranno destinati a riqualificare 47 appartamenti in sei zone della città come ci spiega l'assessore comunale riccardo pozzi sono più di 12 milioni di euro le risorse che il comune di pesaro porta a casa da un bando nazionale il progetto verde sicuro e sociale poi transitati per la regione marche sono sei interventi distribuiti in cinque quartiere della città complessivamente erano 135 i progetti che sono stati presentati e solo 50 sono risultati ammessibili a finanziamento e tutti i progetti di pesaro sono risultati vincitori di queste risorse che andranno a riqualificare degli immobili di proprietà comunale quindi interventi sull'utilizia residenziale pubblica 47 alloggi 47 alloggi che si porteranno dietro anche interventi di riqualificazione del verde urbano quindi interventi sulla casa per la sistemazione del verde per l'efficientamento energetico e per la messa in sicurezza dal punto di vista statico e sismico le zone di mombaroccio novilara candelara arzilla montecchio e monte labate ieri sono state particolarmente colpite dall'ondata di piogge che ha schiantato diversi alberi che sono finiti in strada e in alcuni casi hanno danneggiato auto in sosta la forte pioggia ha provocato anche alcuni smottamenti e frane nessun ferito ma davvero una serata di super lavoro per il gruppo operativo della provincia e per i vigili del fuoco chiamati ad una ventina di interventi vigili del fuoco che per quello che riguarda la squadra di cagli sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a pergola per un incidente stradale che ha visto un veicolo 4x4 perdere il controllo e ribaltarsi nel fosso adiacente alla carreggiata il conducente ha riportato delle ferite ed è stato trasportato al locale pronto soccorso mentre i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza l'area in questione in occasione dell'epifania si è tenuto ieri per il secondo anno l'evento Befana benefica dell'autoclub storico dorino serafini il club peserese in collaborazione con asi terra piloti e motori e scuderia club e ferrari ha donato beni alimentari di prima necessità a casa tabanelli ovvero la struttura d'accoglienza per senza tetto gestita dalla caritas diocesana di pesero e dalla fondazione lions le comte ori e otello e il galà in onore dei 40 anni a roff di pierluigi pizzi sono queste alcune delle novità nel programma della 43esima edizione delle rossini opera festival che partirà il 9 di agosto 2022 e che è stata presentata questa mattina il rossini opera festival toglie i veli al programma della sua 43esima edizione annunciato oggi nel comune di pesero il cartellone che aprirà il sipario il 9 agosto alla vitrifrigorena con le com torri che una delle due nuove produzioni assieme ad otello in scena nella stessa arena dall 11 agosto il teatro rossini debutterà il 10 agosto con la ripresa della gazzetta e poi ancora sette concerti il viaggio a rems dell'accademia rossiniana alberto zedda per un totale di 23 spettacoli che si concluderanno il 21 agosto con tra rondò e tournedò il galà celebrativo dei 40 anni di pierluigi pizzi al roff con la pandemia si erano spostate diversi progetti ma l'edizione del 2022 era rimasta tale quale a come si era pensata diversi anni fa cose precedenti tipo l'edizione del 2021 è stata spostata al 2023 un'edizione che cambia un po l'abitudine l'abitudine che si era avuta fino a poco fa l'anno scorso del 2021 abbiamo presentato dei titoli che si erano visti una volta sola qui al roff invece per il 2022 abbiamo tre titoli che si sono visti qualcuno quattro e anche cinque volte qui al roff sono titoli molto conosciuti da tutti quanti sono il contori che prevede il ritorno in opera di con diego flores fresco della nomina direttore artistico e hotello con la presenza di sergei romanoschi come protagonista e la gazzetta che è stata fatta qualche anno fa programma veramente denso e importante per un'edizione che crediamo sia quella della completa rinascita speriamo dopo le difficoltà date dal periodo del covid soprattutto speriamo che sia quella a cui sarà consentito partecipare dal pubblico del resto del mondo soprattutto da giappone stati uniti che sono tra i principali il terzo e quarto pubblico del festival che in questi anni purtroppo hanno dovuto accontentarsi di alcune trasmissioni streaming ma che invece ci chiedono sempre insomma con una certa ansia di riuscire e sperare di poter tornare in generale appunto programma di altissimo livello e verrà anticipato anche da questa novità da qualche anno come sapete anche per il compleanno di Rossini o non compleanno secondo degli anni più o meno bisestili mettiamo in piedi delle produzioni originali normalmente anche con l'orchestra del conservatorio quest'anno con l'orchestra sinfonica Rossini ci sarà un Tancredi in forma di concerto con un cast veramente importante a ridosso del compleanno di Rossini appunto quindi fine febbraio sarà anche un'edizione molto speciale per Christian della Chiara recentemente nominato nuovo direttore generale del festival l'ennesimo festival ne ho stati tanti ma questa con una nuova in una nuova veste che mi riempie di orgoglio ma anche di tante responsabilità mi sento sicuramente rassicurato dal fatto di avere uno staff molto forte molto consolidato e di avere alla guida di questo festival credo i più grandi che potessimo avere il maestro palazzo e anche il nuovo arrivato in questa funzione Juan Diego Flores quindi diciamo un esordio importante di responsabilità ma anche con le spalle ben coperte casi di positività al covid 19 nella Carpegna Prosciutto Basket Pesero nella Vispesero e nella Megabox Vallefoglia realtà sportive del nostro territorio che convivono col dilagare di contagi che riguarda un po' tutti i campionati e dunque sono inevitabili i rinvii delle partite il servizio dal basket al calcio dal volley al rugby anche per lo sport di Pesero è un gennaio con più tamponi e quarantene che partite giocate il 9 gennaio per la seconda domenica consecutiva la Carpegna Prosciutto Basket Pesero non scenderà in campo è infatti ufficialmente rinviata la trasferta in casa della Germani Brescia inevitabile con 5 giocatori della VL positivi più un membro dello staff e anche per la mezza dozzina di nuovi positivi nella squadra di Brescia la VL è attualmente in quarantena con la prospettiva di riprendere gli allenamenti da martedì la prossima partita in calendario è al momento il recupero con Milano fissato per il 16 gennaio ma la situazione resta in divenire nel calcio la vispesero passa da quattro casi positivi al covid a tre con due negativizzati e un nuovo contagiato situazione relativamente meno grave di una serie c falcidiata dai contagi che dopo aver già posticipato il turno di questo weekend è ormai intenzionata a rinviare anche il turno del 16 gennaio per riprendere il campionato il 23 nel calcio è già stata fermata l'intera serie d per due settimane e ora l'imminente stop all'eccellenza di fatto ferma tutti i campionati dalla serie c in giù passando al volley sono emersi quattro casi di positività al covid anche nella megabox ballefoglia una situazione che porta al rinvio a data da destinarsi del match di domenica 9 gennaio previsto ad urbino contro la corazzata imoco conegliano chi se la passa peggio di tutti è probabilmente il rugby con la federazione che ha già sospeso ogni attività agonistica per tutto il mese di gennaio e ora la fiorini pesero rugby decide pure di dire stop agli allenamenti e il covid 19 non guarda in faccia se si gioca in serie a o in campionati amatoriali così anche realtà come il csi sono costrette a rinviare e posticipare le loro attività agonistiche a vedere il bicchiere mezzo pieno si potrebbe parlare di prolungamento della pausa invernale a vederlo mezzo vuoto invece non è altro che il rinvio di una settimana in attesa di capire l'andamento dei contagi e quali misure il governo intende attuare per lo sport il centro sportivo italiano di pesaro urbino attraverso una nota inviata a tutte le società ha annunciato che tutte le attività sportive ufficiali riprenderanno lunedì 17 gennaio quindi circa dieci giorni dopo la data stabilita inizialmente la decisione di effettuare un'altra settimana di pausa si legge nella nota è maturata in seguito al costante aumento di contagi che sta caratterizzando la nostra regione e per tutelare quindi ancora di più atleti e società siamo in attesa di ricevere ulteriori disposizioni emanate a livello nazionale dalla presidenza del csi e confermiamo inoltre conclude il comunicato che alla ripresa delle competizioni l'attività sportiva sia essa indoor che outdoor potrà essere svolta solo se in possesso di super green pass le manifestazioni che subiranno dunque un posticipo sono il 32esimo campionato provinciale csi di calcio a 8 il 28esimo campionato provinciale di calcio a 5 in corso a tre ponti il 13esimo campionato cittadino sempre di calcio a 5 che si disputa negli impianti del playtime il campionato di calcio a 5 gestito dall'associazione special one sporting club a tavernelle e il club csi volley winter edition si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news prima di salutarci vi ricordiamo però qualche appuntamento del weekend cominciando dalla nostra prima serata dedicata alla commedia dialettale quella teatrale della compagnia il cavalcavia di pesaro questa sera che che questa sera alle 21 e 15 porta sugli schermi di rossini tv la commedia la vita la gira sgonde el vent dunque appuntamento alle 21 e 15 l'informazione di rossini tv torna invece puntuale domattina alle 7 e 20 con la rassegna stampa buongiorno rossini del sabato che per l'occasione sarà condotta da marco cadedu e domenica rossini tv torna per il secondo anno ad ospitare palcoscenico mar che si tratta di un ciclo di documentari che abbina performance artistiche a luoghi molto particolari del territorio luoghi architettonici ambientali e paesaggistici spesso nascosti che vengono proposti in questo ciclo di video prodotti dalla fondazione cassa di risparmio di pesaro prima puntata dedicata all'arco di fondarca di cagli alle 21 e poi tante repliche dal lunedì al sabato come potete vedere in grafica e dunque si conclude qui questa nostra edizione delle tg da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata un buon weekend e un buon proseguimento con i programmi di rossini tv per l'occasione